Nicola Sbaccino, Spalla del Ceva, allora due partite, due vittorie, anche se contro formazioni sempre rimaneggiate. Sì, oggi dovevamo giocare contro Grasso, purtroppo non c'è stato perché ha avuto l'infortunio e noi prendiamo il punto e continuiamo ad andare avanti così. Sensazioni comunque di queste prime due partite, al di là dei risultati? Sensazioni buone, secondo me abbiamo giocato due ottime partite e adesso testa la prossima contro Villanova. Siamo con Matis della Don Dagnino di Andorra, qui chiediamo un'impressione sulla partita e cosa sta succedendo alla vostra squadra e come sta il capitano? Il nostro capitano purtroppo un po' a pezzi, un po' male alla schiena, oggi abbiamo giocato come potevamo, per i giocatori che avevamo, ci siamo divertiti, che alla fine è quello l'importante nello sport, non quanto tanto vincere, ma dare tutto e divertirsi. Quindi il nostro l'abbiamo fatto e siamo felici così.